C'è anche il direttore sportivo del Barletta Vincenzo De Santis tra i nove imputati assolto ieri dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di Bitonto. Dopo due anni di processo il giudice ha deciso che il fatto non sussiste. Con De Santis sono stati assolti anche Tommaso Amendolagine, Alessandro Cantatore, Emanuele Natilla, Daniele Rizzi, Antonio Scolamacchia e Tommaso Massimo Aloisio e poi Vincenzo Buonvino e Domenico Natilla perché il fatto non costituisce reato. De Santis era finito nell'occhio del ciclone all'indomani della diffusione nell'ottobre 2014 della notizia dell'accusa nei confronti suoi e di altri otto uomini di violenza sessuale di gruppo in tempi diversi con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con compresenza fisica e partecipativa e tra loro riuniti. La presunta vittima delle violenze che all'epoca di fatti aveva 22 anni sarebbe stata contattata da uno degli imputati il quale le avrebbe parlato dell'esistenza di un video compromettente. Il video sarebbe stato usato dai presunti Aguzzini per minacciare la donna, costretta ad avere rapporti sessuali con loro in cambio della distruzione del filmato. Stando a racconto della ragazza, oltre alle minacce, il gruppo avrebbe abusato di lei contro la sua volontà nella faleniameria di proprietà di uno degli imputati in un casolare in campagna, in auto e sotto scala. Dopo un iter giudiziario durato due anni ieri per De Santis, volto più noto tra gli indagati, è arrivata la soluzione perché i fatti denunciati non sussistono.